Cosa significa interrogarsi sul Cardinale Nicora, recentemente scomparso, uomo attento all'impegno dei cattolici in ambito sociale? Storico il suo discorso di assago a farsi prossimo. Significa evidentemente ripercorrere la vicenda personale di un uomo e di un principe della Chiesa. Ma come conviene fare con un uomo come Nicora significa attraverso di lui aprire una finestra su anni molto forti, molto importanti della nostra vita, che sono gli anni che hanno accompagnato i travagli degli ultimi scorci del secolo scorso e che hanno aperto le prospettive di oggi. Ha citato farsi prossimo. In effetti il Cardinal Nicora, allora vicario, allora vescovo ausiliare del Cardinal Martini, riuscì a fare da ponte tra il grande biblista, il grande uomo di cultura, l'uomo di spirito che era Martini, a farsi tramite tra questa visione alta spirituale del Cardinale e le necessità di un tempo, quello che portava alle crisi degli anni Ottanta, e far vedere fin da allora che i problemi dell'uomo, problemi anche molto pratici che sono la casa, il lavoro, l'assistenza eccetera, hanno possibilità di soluzione se vengono visti nell'ottica non soltanto assistenziale o come si dice oggi dell'emergenza, ma attraverso la considerazione di chi ha bisogno, principalmente ma verrebbe da dire di tutti, la considerazione che è una persona umana.